Favorire percorsi innovativi verso la parità di genere, promuovere una società sempre più equilibrata ed inclusiva. ConfCommercio Belluno attraverso Ascom Formazione coglie in pieno quella che è una vera e propria sfida della società di oggi. Ascom Formazione è l'ente di formazione di ConfCommercio e abbiamo aderito in qualità di partner operativo ad un progetto Disruption con Metalogos come capofila, organizzando degli eventi, dei workshop proprio finalizzati alla sensibilizzazione di tutto quello che può essere collegato alla parità di genere. Abbiamo scelto anche il territorio di Cortina, in quanto Cortina negli ultimi tempi è molto soggetta ad eventi di questo genere, anche di formazione e quindi riteniamo importante il ruolo di ConfCommercio che si rivolge sia alle aziende, però anche in questo caso ai privati cittadini. Gli eventi in scena al Museo Etnografico di Cortina prenderanno il via il 19 novembre, fra le tematiche affrontate, la fiducia come strumento di crescita della community, ma anche le strategie di empowerment al femminile, l'equità, nonché il potere del linguaggio inclusivo. L'iniziativa si inserisce nell'ambito delle attività del bando pari finanziato dalla Regione Veneto. Sono quattro workshop gratuiti, dedicati alle persone, quindi ai singoli cittadini, ai privati. Logicamente noi come ConfCommercio utilizziamo la possibilità di comunicare in maniera facile e diretta con le nostre aziende, e a cascata anche con i dipendenti di queste aziende, proprio per promuovere questa iniziativa e cercare di creare un movimento che possa smuovere quelle che sono anche i cosiddetti bias, che sono quindi dei pregiudizi, delle cose che ci ingabbiano un po' nella realtà quotidiana.